Eccoci con Stefano Senzi, complimenti di una prestazione super totale, assist ma anche il gol. Grazie mille, sono molto contento per il gol, per l'assist, ma soprattutto per la squadra, per i minuti che abbiamo messo, per la prestazione che abbiamo fatto. Comunque manca poco l'inizio del campionato e quindi è una prestazione che ci voleva. Esatto, hai detto manca poco inizio del campionato, ci dai magari un bilancio di questo pre-campionato perché sono solo vittorie? Sì, no, positivo, l'importante più che le vittorie sono l'intensità, sono il lavoro che poi trasformi in partita quello dell'allenamento. Siamo riusciti a fare buone cose, dobbiamo ancora migliorare in altre, però diciamo che il punto di partenza è ottimo. Adesso testa, focus sul Genoa. Sì, ora la partita è prima di campionato, partita importante, chiaramente tutti vogliono partire bene, sia noi che loro. Abbiamo una settimana per prepararla, dobbiamo concentrarci sulla partita e cercare di fare il meglio. E poi giocare con Edin Dzeko, com'è? Nuovo arrivato, ha fatto già un gol? Ah beh, lo conosciamo tutti, è un grande campione, Edin sicuramente ci darà una grossa mano. Mi sono trovato molto bene, chiaro, è un giocatore che sa giocare a calcio, che comunque capisce, capisce le giocate. Sono contento, siamo contenti che sia arrivato. Ultimissima cosa perché stanno mangiando le zanzare qui a bordo al campo. I tuoi obiettivi per quest'anno, Stefano? Sicuramente la continuità, quella che non ho avuto in questi due anni, ora sto bene. Sto lavorando bene, mi sento muscolarmente bene, sicuramente dovrò dare continuità, questa è la cosa più importante. Grazie per la stagione. Ciao Stefano.